Studio, lavoro, piccole o grandi passioni? MSI ha un laptop in linea con il tuo stile di vita dinamico. MSI Modern 14. Ultraportatile, dal design elegante, dotato dei più recenti processori Intel Core di undicesima generazione, con grafica Intel Iris XE integrata opzionale. Tastiera ergonomica e retroilluminata, che restituisce il giusto feedback ad ogni pressione e fa risaltare i tasti anche al buio. Inoltre, le porte USB 3.2, l'uscita HDMI e il lettore di schede microSD integrati lo rendono versatile in ogni situazione. E con MSI Center, scegli il tuo scenario di utilizzo, ottimizzi le app di produttività, migliori la qualità delle videochiamate con la cancellazione del rumore e controlli lo stato di salute del sistema con facilità. Fai il pieno di stile in un formato ultraleggero, con MSI Modern 14.